Questa sera parliamo di biologia marina e parliamo del Mediterraneo. Allora, il titolo Biologia Marina del Mediterraneo era un titolo un po' al di là del fatto che abbiamo sempre fatto tante lezioni sulla biologia marina del Mediterraneo, che peraltro potremmo andare avanti a parlarne per degli anni e comunque di cose da dire ci sono. Ma questa sera pensavo di fare una cosa un po' diversa e mi focalizzerò soltanto su alcuni temi che magari non tocco quasi mai durante le solite lezioni. E dando per scontato ovviamente che tutti voi vi ricordiate un po' le basi della Biologia Marina del Mediterraneo di cui abbiamo spesso parlato e che ne riparleremo comunque durante i vari corsi che spero prima o poi ripartiranno. E quindi ho pensato un po' di riagganciarmi, ecco per esempio adesso non va, ecco, ho pensato di riagganciarmi all'ultima lezione, all'ultimo viaggio virtuale che abbiamo visto mercoledì scorso di Marco che è andato a Guadalupe nel Pacifico a vedere gli squali bianchi e abbiamo visto veramente delle immagini spettacolari di questi animali. E allora uno così si può chiedere ma ci sono gli squali nel Mediterraneo? Ci sono gli squali bianchi soprattutto nel Mediterraneo che voi sapete lo squalo bianco è uno degli squali più grossi, ce ne sono di più, anche di più grossi, anzi direi che è lo squalo più grosso che esiste come squalo ed è anche notoriamente uno dei più aggressivi. E sì, gli squali nel Mediterraneo, intesa proprio come categoria di animali, ce ne sono e ce ne sono tanti, tante specie. Lo squalo bianco, di sicuro, esattamente quello che abbiamo visto nei video, nelle foto di Marco, il macò, la verdesca, il martello, lo squalo volpe. Questo è un esempio, cioè ce ne sono anche altri ma questi sono quelli un pochino più così interessanti, più particolari, più anche belli da vedere, se riuscissimo a vederli, cosa che non è assolutamente semplice. Una ricerca recente, per esempio, ha visto che lo squalo bianco che nuota nel Mediterraneo ci nuota da più di 3 milioni di anni, perché alcuni ricercatori dell'Università di Bologna hanno sequenziato il DNA di alcuni squali bianchi pescati o recuperati nel Mediterraneo e l'hanno confrontato con il DNA degli squali bianchi nel resto del mondo e hanno visto che lo squalo bianco del Mediterraneo è praticamente abbastanza stanziale, cioè proprio una specie abbastanza, cioè non è proprio una specie, rimane sempre la specie squalo bianco, però si è differenziato un pochino del resto degli squali del mondo, per cui direi che è proprio quasi stanziale nel Mediterraneo e si è visto che è quasi più simile allo squalo bianco del Pacifico rispetto a quello dell'Atlantico. Ora, uno immagina se lo squalo bianco arriva nel Mediterraneo è perché viene dall'Atlantico, dallo stretto di Gibilterra, ma in realtà lo squalo bianco è nel Mediterraneo da talmente tanti anni per cui le coste erano molto diverse, quindi probabilmente nella parte ovviamente del Medio Oriente il Mediterraneo era più a contatto col Pacifico, l'Oceano Indiano, rispetto all'Atlantico, quindi questo per dirvi che lo squalo bianco è proprio una specie che si trova specifica anche nel Mediterraneo. Io ho cercato anche delle foto di squali bianchi nel Mediterraneo, ma purtroppo non ce ne sono molte, se non squali pescati, tagliuzzati, ammazzati e francamente non mi piaceva farvele vedere. Si sa che lo squalo bianco spesso si ritrova intorno alla Sicilia, al canale di Sicilia, tra la Sicilia e le coste africane, perché lì ci sono i grandi passaggi dei tonni, dei banchi di tonno e ovviamente questo è uno dei pesci di cui si nutre lo squalo bianco. Gli attacchi di squali? Beh, in Italia non ce ne sono molti, anzi direi quasi nessuno. L'ultimo che ha fatto notizia e che è abbastanza accertato è di 30 anni fa nel golfo di Baratti a Piombino, dove un signore è stato azzannato e anche ucciso da uno squalo bianco. E questa è una storia che io ricordo, perché nell'89 io ero già in piscina col Cesare, con Silvano, col Cicciobello, che si era commentata sta cosa, era una cosa talmente strana, talmente assurda, che si erano inventate un sacco di cose e questo qua era un bombarolo, è saltato su una bomba, cose del genere. Però sembra che in realtà anche nelle analisi, come si dice, nei report scientifici, questo fatto di cronaca è riportato come l'ultimo attacco di squalo bianco in Italia, perché nei siti scientifici di biologia marina, dove si studiano le popolazioni di squali anche nel mondo e anche in Italia, c'è proprio una raccolta di tutti gli attacchi mortali o non mortali e questo è proprio classificato come un attacco di squalo. Quindi è stata una cosa abbastanza particolare, ma il golfo di Baratti, non so se ve lo conoscete, è praticamente il golfo prima di Piombino, da cui noi partiamo tutti gli anni per andare all'isola d'Elba ed è un bellissimo posto, ed era, sembra uno squalo bianco di 5-6 metri, quindi una cosa veramente molto grande. E poi, vabbè, abbiamo squali più piccoli e meno aggressivi, ovviamente come la verdesca, che peraltro è uno squalo cacciato, perché è pescato e che si mangia, e il macò, che invece è uno squalo un pochino più, cioè non abbastanza aggressivo pure lui, e che soprattutto, se vi ricordate, nell'Adriatico, quest'estate sono stati fatti degli avvistamenti di squali di questa specie abbastanza grossi. Quindi, andando un po' a ricercare queste notizie, ho trovato anche questa cosa abbastanza curiosa, e recentemente si è visto che gli squali nel Mediterraneo, questo non solo dell'Italia, ma sto parlando anche del Mediterraneo, di tutte le altre zone, sono aumentate, e alcuni ricercatori, perché c'è da dire che, come ho detto prima, trent'anni fa l'ultimo attacco di squale, poi non è che gli squali si vedano ogni piesso spinto, cioè non è facile, non sono proprio il pesce più frequente nel Mediterraneo. Quindi, anzi, c'era da parte dei ricercatori anche un po' di timore, perché sembrava che questi squali, in generale, di tutte le specie che vivono nel Mediterraneo, stessero un po' sparendo con l'inquinamento, con le attività antropiche, eccetera. Mentre invece adesso, recentemente, è uscita questa notizia, che probabilmente anche grazie al Covid, gli squali nel Mediterraneo stanno aumentando, e questo per vari motivi, perché ovviamente il Covid ha portato a un rallentamento delle attività antropiche sulle coste, ma anche una riduzione dei traffici marini, delle barche, degli spostamenti, e quindi in una situazione un po' più di tranquillità del mare, chiaramente gli animali si tornano e si trovano a proprio agio. Questo l'abbiamo visto anche nelle nostre città, quando c'è stato il lockdown duro, quello che proprio non ci si usciva di casa, gli animali si riappropriavano, animali che venivano dalla campagna, si riappropriavano della città, perché non essendoci in giro più nessuno, non venivano disturbati. Questo è uno squalo balena, uno squalo filtratore, quindi molto grosso, ma non è assolutamente, no scusi, sì, uno squalo elefante, scusate, balena e pesce. Uno squalo filtratore, non è assolutamente pericoloso, però è abbastanza impressionante quando apre la bocca per filtrare l'acqua, per nutrirsi. E dagli squali passiamo ad altri animali che sono molto grossi e che non vediamo facilmente, perlomeno noi subacquei, forse dalle barche sì, e sono i cetacei. Questa è un'altra notizia recente in cui praticamente, non so se ve la siete, l'avevate sentita, nel porto di Portoferraio sono passate due balenottere abbastanza grandi e come vedete dalla foto anche abbastanza vicine alla costa. E questo non può essere abbastanza sorprendente, però in realtà questo è un altro avvistamento di una balenottere azzurra che, lo sapete, è l'animale più grande della Terra che può raggiungere anche 26 metri. Questa era una balenottere azzurra all'algo dell'isola d'Elba, sempre ad aprile del 2020, fotografata dall'alto della guardia costiera. Non è, dicevo, così sorprendente una cosa del genere perché noi abbiamo questa grossa zona tra la Francia, la Liguria e la Sardegna, comprendendo anche dentro la Corsica e l'Arcipelago Toscano, che è stato dichiarato nel 1999 in un santuario internazionale dei cetacei. E perché questo? Perché ci sono, si è visto nel tempo che gli avvistamenti di grandi cetacei, di grandi animali marini come balene, capodogli e un sacco di delfini di vari tipi, erano, era particolarmente frequente, cosa che invece era più raro nel resto del Mediterraneo. Proprio in questa zona precisa si continuavano a vedere, non dico adesso, ma anche 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, balene e delfini. E uno si può anche un po' stupire, perché non è che siamo proprio di fronte alla Libia o all'Algeria dove non c'è nessuno, qui siamo di fronte alla Liguria, alla Costa Azzurra, alla Corsica, alla Toscana, dove, se voi vedete, vorreste andare a vedere le traiettorie dei traghetti, è un reticolo continuo di traghetti che vanno avanti e indietro, di barche, di traffici, abbiamo il porto di Genova, di La Spezia, di Nizia, in cui praticamente arriva non so quanti cargo, quante navi cargo dal resto del mondo. Ed è stata una cosa veramente, quando i ricercatori hanno capito che qui c'era qualcosa, cioè, tutto questo insieme di animali hanno deciso di, hanno creato questa convenzione che non è stata facile tra Francia e Italia, di creare questo santuario, che vabbè, non è che allora vuol dire che le navi qua non passano più, perché ovviamente non è possibile, però si cerca di fare, si sono create delle crociere di studio, si sono create delle situazioni per cercare di capire, di disturbare il meno possibile, compatibilmente con i traffici economici, perché non è che ci si può fermare da questo punto di vista, si è cercato di trovare delle regole, delle situazioni per riuscire a disturbare il meno possibile questi animali, che peraltro sono animali molto sensibili, per esempio ai rumori sott'acqua, agli ultrasuoni che molte volte queste grandi navi fanno. E i cetacei, voi sapete, sono dei vertebrati mammiferi, cioè esattamente come noi, siamo mammiferi, pure loro, quindi sono animali che devono respirare e quindi sono animali marini ma che non sono come i pesci che respirano l'ossigeno, prelevano l'ossigeno dall'acqua, ma devono proprio uscire sulla superficie del mare, respirare e poi tornare giù. Sono mammiferi che si sono adattati alla vita marina. Sono classificati in due ordini, i misticeti e gli odontoceti, i misticeti sono fondamentalmente le grosse balene che hanno invece che i denti i fanoni e sono quindi animali filtratori e sono quindi animali che mangiano krill, gamberetti, plankton, cose molto piccole, mentre gli odontoceti hanno i denti quindi come i delfini, come i capodogli e tutti gli altri tipi di delfini che vedete ho caricato qui, lo zifio, il globicefro o il grampo, sono animali che mangiano altri pesci, altri animali, perché con i denti lo possono fare e nel Mediterraneo queste sono le specie che regolarmente sono presenti soprattutto nel santuario dei cetacei che vi ho fatto vedere prima, ma anche nel resto di tutto del Mediterraneo, per esempio intorno alla Sicilia c'è una, sembra che ci sia una popolazione abbastanza stanziale di capodogli che sono peraltro i cetacei che vanno più in profondità perché riescono ad andare anche a mille, mille, cinquecento metri mentre gli altri non amano scendere così in profondità e restano più in superficie. Ma perché c'è questa concentrazione di cetacei proprio nel santuario appunto dei cetacei? Beh, perché ci sono tante spiegazioni, una ragione forse precisa non c'è, però sembra che la conformazione della costa che voi sapete lì Liguria, Costa Azzura sono cose che scendono abbastanza velocemente, c'è una, il mare lì a largo è abbastanza profondo, una, ci sono delle, delle, delle situazioni di correnti, di apporti dai grossi fiumi soprattutto dalla Francia e di, di circolazione dei venti che creano un, delle situazioni per cui dal fondo del mare si risalgono i nutrienti e quindi questi nutrienti richiamano animali, pesci, grandi, piccoli, eccetera, eccetera, e, e anche il planton, il fitoplancton, lo zooplancton e quindi voi sapete come la catena mele ambientare dove c'è, dove ci sono tanti pesci, poi arriva il pesce più grande, più grande, più grande, arrivano anche i cetacei che sono questi animali enormi che, che, che hanno bisogno di molto nutrimento perché essendo così grossi e qui, in questa proprio particolare zona geografica, lo riescono a trovare facilmente. Questo fenomeno che si è visto, c'è dappertutto, c'è in tanti mari, ma nella zona della, tra la Liguria e la Francia è come zona del Mediterraneo molto accentuato, si chiama upwelling, cioè praticamente dal fondo arrivano in superficie delle aree, delle acque ricche di, di nutrimento che poi sono la base della catena alimentare al cui culmine abbiamo i grossi cetacei. Questa sembra essere una, una spiegazione che, ehm, è confermata appunto dalla, dalla pratica. Voi sapete che anche dalla Liguria, penso anche dalla Francia, partono, ci sono delle, delle, proprio ormai si è creato anche un turismo come in California, del, del whale watching, cioè partono da Savona, da Genova, delle, delle crociere giornaliere in cui vanno a largo e in particolari periodi dell'anno è più facile, ovviamente altri un po' meno, portano i turisti a vedere, eh, le balene e io non sono mai andata, mi piacerebbe farlo prima o poi, mi dicono che quasi sempre si riesce a vedere qualcosa, se non è la balena, magari i delfini, vabbè, quelli delfini, tursi, o pigrampi, zifi, tutti gli altri cetacei che popolano questa zona. Adesso possiamo, volevo parlarvi anche di un altro aspetto che è, eh, l'aumento, eh, della temperatura terrestre, mh, un fenomeno che credo, penso tutti voi sappiate, che ha tante cause, non tutte chiare, ma che, come dato di fatto, è, eh, abbastanza consolidato, cioè, la, la temperatura terrestre sta aumentando. Il rapporto antropico di questo aumento non è chiaro, ma potrebbe, ma è, è quasi sicuro che ci sia. Quindi, eh, la Terra si sta riscaldando, eh, tutto, il riscaldamento della Terra porta tutta una serie di problematiche che non voglio stare qui, a, di cui non voglio entrare nei dettagli, però, una cosa che, che è importante da sapere, è che, eh, il bacino del Mediterraneo si è visto che si sta riscaldando molto più rapida, cioè, molto più, più rapidamente rispetto alla media del pianeta. E quindi, per tante ragioni che anche qui difficili, sia da, 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 non da capire, ma insomma, non, non tutte, eh, come dire, eh, scientificamente provate, ma tante sono ipotesi, però, il bacino del Mediterraneo si sta riscaldando il 20% di più rispetto alla media, eh, del pianeta. E, eh, se questo non, non si fa qualcosa in tempo, entro il 2040 avremo due gradi e due in più, eh, rispetto adesso, ed entro il 2100 avremo un aumento del livello marino di un metro, che non è poco, perché, eh, voi pensate soltanto a Venezia, eh, avere, eh, un aumento dell'acqua e del, del mare di un metro è abbastanza, eh, problematico. Eh, e questo, eh, che cosa comporta? Comporta che, eh, il mar Mediterraneo, che è un mare, eh, che normalmente ha una temperatura in superficie, eh, che varia con le stagioni, ma che, eh, in, in profondità è abbastanza stabile sui 12-13 gradi, soprattutto per quel che riguarda la temperatura di superficie, sta aumentando molto, molto di più degli anni scorsi, portando a quello che si chiama tropicalizzazione del Mediterraneo, cioè il Mediterraneo sta, per certi versi, diventando un mare tropicale. Eh, e questo, se poi, uno può dire che bello, vado ai tropici, però, eh, comporta dei seri problemi. Eh, appunto, non, non entro nei, nei dettagli dei, dei, dei problemi, eh, che sottintendono a questi aspetti che sono complessi, che che sono, eh, relativi alla fisica, all'oceanografia, ma, ricordiamoci, ne abbiamo parlato anche nella lezione di biologia tropicale, l'aumento della temperatura, eh, fa sì che aumenta anche la CO2 che entra nell'acqua e porta a un'acidificazione delle acque, con tutto quello che per esempio sulle barriere tropicali abbiamo visto, eh, può comportare. E, e, e per quel che riguarda il Mediterraneo, che magari barriere tropicali, barriere coralline non le ha, ma, vabbè, ha tanti altri animali che hanno dei, dei gusci cacari, ma non entro in questo, è quello che volevo però, eh, di cui, quello di cui volevo parlarvi è che il Mediterraneo, non essendo ovviamente un mare, è chiuso, ma ha delle entrate, c'è lo Stato Gibiliterra e c'è il canale di Suez. Il canale di Suez è in, mette il Mediterraneo in collegamento col Mar Rosso. Il Mar Rosso è un mare tropicale, oltre al fatto che il Mar Rosso è un mare particolare, perché è un mare molto chiuso, mh, rispetto ai grandi oceani, eh, ma l'acqua è decisamente più calda, quindi, e, e, e la flora, la fauna del Mar Rosso è una flora, una fauna tropicale, assolutamente. allora attraverso il canale di Suez tante specie che prima come barriera per entrare nel Mediterraneo avevano l'acqua fredda e quindi non entravano perché, eh, se uno è abituato a stare a 30 gradi non va volentieri quando c'è 20 gradi perché non ci sta, resta nel suo calduccio. Adesso, eh, uniformando un po' la temperatura del superficie perché a 30 gradi ormai ci arriviamo quasi sempre durante l'estate soprattutto in Mediterraneo, soprattutto in Mediterraneo orientale, ecco che molti animali, alcuni animali perlomeno, entrano nel Mar Mediterraneo e non era la loro casa naturale, sarebbe stato il Mar Rosso. Per esempio, si è visto che sta, eh, stanno, ci sono varie, eh, avvistamenti del pesce palla maculato. La prima segnalazione è stata in Turchia nel 2003 e poi sono arrivate nelle acque italiane nel 2013 a Lampedusa eccetera. È una specie che, eh, è pericoloso per l'uomo nel momento in cui viene mangiata, quindi è una specie che non è aggressiva, è innocua, non è velenoso, ma contiene una, una, una tostina, una tetradotostina che è, eh, che non si disattiva col calore. Quasi tutte le tossine, vi ricordate quando abbiamo parlato degli animali marini pericolosi, quasi tutte le, i veleni marini si, eh, inattivano col calore e quindi se noi mangiamo un pesce venenoso ma lo cuociamo, non, non ci succede niente. Questo pesce invece, eh, contiene questa tossina che non si disattiva col calore, quindi se noi lo cuociamo è comunque rimane velenoso, tossico e questo è un problema perché viene pescato e se i pescatori o se chi pesca non è esperto lo può mettere insieme a tutti gli altri pesci venduto, mangiato, eccetera e può dare delle intossicazioni alimentari molto importanti. Eh, vedete qui come proprio i vari avvistamenti indicano come è passato di sicuro dal canale di Suez perché è cominciato nel 2003 che è diventato abbastanza comune nel 2009 poi passando gli anni fino a 2014 che è stato avvistato eh, verso la Spagna raramente però è ovvio che eh, loro si spostano e eh, colonizzano tutto quello che riescono a eh, colonizzare. Eh, il problema è anche abbastanza è talmente eh, importante che persino il Ministero della di della caccia e pesca ha diramato appunto degli alert per avvisare tutti i pescatori e anche eh, i pescatori non professionisti di stare molto attenti a questo pesce non tanto per il pesce in sé ma quanto per evitare di mangiarlo ovviamente. Questo è un altro pesce coniglio si chiama pesce coniglio striato eh che sta che è passato dal Mar Rosso verso il Mediterraneo ehm anche questo non è un pesce in sé eh problematico però ha un piccolo problema le sue spine sono velenose e quindi un po' come la tracina che che abbiamo che conosciamo nei nostri mari più vicini eh nel nostro Mediterraneo più vicino ha queste spine che possono essere molto velenose e insomma secondo me qual è il problema? È che questo è un pesce molto simile alla nostra comunissima salpa eh la salpa forse è leggermente più mh colorata però come vedete è uguale e quindi può essere scambiato anche qui per una salpa vabbè che uno dice non è che le salpe che troviamo che tocchiamo che vediamo in immersione si facciano proprio toccare però mettiamo anche sul mercato nei negozi di pesci lo lo vedete queste sono sono le salpe molto simili a quel pesce coniglio soltanto che la salpa come il pesce coniglio è un erbivoro anche loro si nutre di aria però la salpa non ha le spine non è velenosa come spine quindi al mercato la possiamo prendere senza eh pungerci mentre invece sappiamo che lo scorfano non lo prendiamo dobbiamo fare attenzione a prenderlo in mano perché ha delle spine che che pungono se invece scambiamo il pesce coniglio con una salpa lo prendiamo in mano e ci pungiamo un altro animale che sta che è entrato nel nostro Mediterraneo è il granchio blu americano che a vederlo sembra anche carino però è un granchio che può raggiungere delle dimensioni notevoli fino a 15 centimetri è un granchio molto aggressivo e quindi essendo aggressivo non per noi uomini perché ma è aggressivo con le altre specie animali con cui coabita e quindi rischia di un po' sballestrare gli ecosistemi in cui viene inserito questo recentemente è stato trovato in Sardegna e poi un'altra cosa che magari uno non non pensa è che il nostro famoso barracuda che quando facciamo le immersioni andiamo sempre a vedere quando lo vediamo che bello che bello in realtà il barracuda che vediamo noi in immersione non è il vero barracuda indigeno del Mediterraneo ma è un barracuda che è arrivato dall'Atlantico perché il vero e sono due specie diverse simili cugini ma sono due specie diverse uno è non ho scoperto non indietro ecco uno è la Spirena Spirena che è il vero barracuda del Mediterraneo o luccio di mare e che però è difficile da vedere perché sta in profondità non è facile vederlo mentre invece la specie atlantica la Spirena Viridensis si è ambientata benissimo nel Mediterraneo ed è quella che noi in realtà vediamo sia all'elba che in Liguria quando vediamo quei banchi che sono praticamente sotto costa vicino agli scogli e li vediamo tranquillamente tra l'altro la differenza tra i due è molto molto difficile perché sono molto molto simili però è un esempio di come noi crediamo di vedere un pesce del Mediterraneo invece stiamo guardando un pesce dell'Atlantico ecco questo è un banco di barracuda che ha fotografato Nando e che spesso vediamo all'elba o in Liguria dove appunto ci sono delle popolazioni interessanti questa è un'altra immagine di un pesce particolare un pesce chirurgo che è proprio un clandestino nel senso che finora sono state fatte pochissime segnalazioni però mi ha colpito il fatto che la segnalazione più sicura anche perché è stata anche fotografata è la località Porto Azzurro dell'Elba dove soprattutto quest'anno siamo andati spesso a fare immessioni quando non non riusciamo andare a farle di là ecco questo è un pesce chirurgo i pesce chirurghi hanno queste in fondo delle lamette delle delle squame modificate che sono che risultano molto taglienti quindi sono proprio delle lame al lato del corpo e quindi bisogna fare attenzione chiaramente non è un pesce mediterraneo è un pesce tropicale e che probabilmente è risalito dalle parti o dal canale dal canale di Suez ed è entrato nel mediterraneo fino ad è stato segnalato pochi casi ma magari ce ne sono degli altri quindi il calore il caldo cioè la temperatura del mare che mediterraneo che sta aumentando magari ci porterà tra un po' oltre a una serie di altri problemi ma magari riusciremo anche noi a formare ad avere o a vedere le barriere coralline che vediamo nei mari tropicali questo è l'unica madrepora mediterranea che è in grado di costruire delle barriere coralline che però nella nella situazione del Mediterraneo con le acque fredde o temperate non può più crescere più di così e quindi magari invece tra qualche anno vedremo che costruirà anche lei questo per esempio è un altro esempio di questa bellissima acropora che forma dei cuscinetti delle palle le vediamo spesso in immersione io ogni tanto le faccio vedere quando le vedo e e chissà cosa succederà se la temperatura del Mediterraneo dovesse andare a aumentare ancora torniamo un po' invece così un po' più nelle vicino alle nostre immersioni a quello che facilmente riusciamo a vedere durante le nostre immersioni nel Mediterraneo ovviamente e e volevo richiamandomi un po' anche i pesci tropicali che stanno invadendo il Mediterraneo vabbè invadendo insomma stanno arrivando poi nel Mediterraneo però che sono normalmente colorati belli eccetera però volevo farvi notare come anche nel Mediterraneo abbiamo dei bellissimi pesci colorati e che guarda le vediamo sempre in immersione sono tantissimi e per esempio questi sono i labri della famiglia dei labri quelli che normalmente noi chiamiamo tordi i tordi sono dei pesci anche grossini a volte il tordo pavone raggiunge anche i 20-25 centimetri di diametro ma poi ce ne sono anche di più piccolini e ci sono tantissimi tantissime specie diverse con tante colorazioni hanno tutte la caratteristica di avere questa pinna posteriore a ventaglio il muso molto allungato e questi e la pinna dorsale continua e questi sono i tordi sono tantissimi li possiamo vedere in immersione con il tordo pavone che è il più bello il tordo cellato con questo percolo verde-rosso il tordo verde poi c'è il tordo bruno ce ne sono tantissimi e se vi notate se se ve li tenete a mente vedrete che nella prossima nelle prossime missioni vedrete sicuramente sempre della famiglia dei labridi e sempre della serie di pesci colorati e molto abbastanza con colori molto vistosi sono le donzelle le donzelle pavonine che hanno questa capacità questa caratteristica anche di essere molto diverse tra maschio e femmina questa è la femmina e questo è il maschio anche questi sono pesci molto molto visibili molto attivi ci girano intorno spesso non dico che non si spaventano perché non è che si lasciano toccare come dei cagnolini però sono molto attivi e sono curiosi ecco diciamo sono dei pesci curiosi che ci girano intorno e questa è la donzella comune che anche questa è molto colorata ecco qui ho aggiunto questa perché qualcuno mi aveva chiesto cos'era quel pesce che avevamo visto durante il documentario The Ocean ecco è un labride cioè praticamente è un parente delle delle donzelle e dei tordi si chiama labride testa di pecor asiatico io altri nomi più specifici in italiano non ne ho trovati per il semplice fatto che ovviamente è un pesce tropicale cioè è un pesce oceanico e quindi nel Mediterraneo proprio questo non si è mai visto per cui non c'è una una grossa corrispondenza in nome italiano è veramente abbastanza inquietante come 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 faccia e comunque è un parente delle nostre donzelle e dei nostri tordi altra altra grande categoria di pesci che possiamo vedere nelle nostre immersioni e che popolano le nostre coste mediterranee sono i sparidi cioè i saraghi anche qui come i tordi di saraghi ce ne sono tantissime specie sarago fasciato sarago maggiore e poi questa vabbè è l'occhiata e il dentice anche qui il dentice per i pescatori è un un grosso trofeo se si riesce a pescare e questo è il branzino invece ecco il branzino è un po' più difficile da osservare in immersione io l'ho visto solo una volta perché normalmente va non resta troppo sotto costa qui abbiamo un filmato se funziona ecco sì questo è un esempio di di un'immersione a portofino che abbiamo fatto ovviamente le immagini cioè la qualità fotografica non è certo quella dello zucchini perché io faccio le immagini faccio le riprese con la mia con la mia GoPro per cui non è proprio il massimo però vi volevo far vedere questa questo piccolo video in cui vedete questo dentice che era parecchio grosso assolutamente non spaventato è qui tranquillo io gli sarò a un metro un metro neanche un metro e mezzo ed è qui che gira tranquillo probabilmente avrà la sua tana che starà difendendo il suo territorio mi guarda ma non scappa è qua tranquillo ci sono anche gli altri sobacco intorno e si fa direi si fa quasi osservare un'altra grande classe che vediamo spesso nelle nostre immersioni sono i serrani di lo sciarrano e la perchia che sono due pesci molto simili lo sciarrano è chiamato anche pesce scrittura ma che si differenzia vabbè dalla perchia un po' per il mantello che è abbastanza diverso ma soprattutto perché spesso perché ha questa questa macchia sulla pancia che che spesso è di un blu acceso blu viola proprio molto evidente e e quindi si si riconoscono abbastanza facilmente della stessa famiglia dei dei serranidi i cugini sono le cernie e questa e la cernia è uno dei grossi pesci che a noi piace andare a vedere durante le nostre emersioni quasi tutti questi pesci anche quelli che abbiamo visto prima le donzelle i tordi sono hanno la possibilità di essere non contemporaneamente hanno la possibilità di essere sia maschi che femmine a seconda della specie alcuni nascono maschi e poi diventano femmine ma più frequentemente nascono tutte femmine e poi aumentando la dimensione crescendo e con la maturità diventano maschi e questo si è visto anche che dipende anche dall'ambiente nel senso che ovviamente i maschi essendo più grossi spesso vengono cacciati più facilmente perché vengono un pesce grosso allora ci sono delle situazioni in cui la popolazione è solo fatta di femmine perché tutti i pesci grossi maschi sono stati cacciati allora si è visto che in una situazione del genere ci sono dei meccanismi per cui una femmina più velocemente diventa maschio per poter continuare la riproduzione qui vi faccio vedere adesso un piccolo un altro piccolo filmato un altro esempio di come in Liguria a Portofino questi grossi pesci sono molto molto tranquilli non sono spaventati e perché siamo in una osserva marina dove ovviamente hanno imparato hanno capito che per loro perlomeno non ci sono grossi pericoli anche perché questi sono i pesci più grossi che ci sono in questa riserva marina per cui vedete come questa cernia questa grossa cernia che sta riparata dietro a una roccia però anche se io mi avvicino non è particolarmente spaventata forse un pochino impastidita ma praticamente si gira un attimo e poi si fa guardare un po' e se ne va ma assolutamente in modo tranquillo e questa è una situazione che nelle nostre immersioni in Liguria nell'area marina protetta di Portofino è molto molto frequente trovare e concludo dicendo come appunto parlando dell'area marina protetta sono delle questa è una situazione che l'area marina protetta di Portofino è nata nel 99 esattamente anche quando è nata il santuario dei cetacei le aree marine protette poi la prima mi sembra che sia stata a Ustica o una della Sicilia e poi vedete che adesso in Italia ci sono 27 perché l'area marina protetta consente molte di proteggere chiaramente l'ecosistema di fare delle attività di studio e alla fine l'area marina protetta cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono limitate le azioni dell'uomo quindi è vietata la pesca è contingente ci sono contingentate alcune attività come anche per esempio le attività subacquee o l'ancoraggio eccetera e questo si è visto che col tempo porta all'aumento delle popolazioni di pesci degli ecosistemi che si che si sviluppano senza contare poi del grosso delle grosse conseguenze sul turismo comunque sull'economia locale dove l'area marina protetta si trova perché questo vediamo benissimo la situazione in Liguria porta allo sviluppo di altre attività turistiche che vanno dall'osservazione al diving anche alle barche in superficie che possono creare sviluppo ed economia niente volevo dire una cosa non me la ricordo più comunque niente con questo ah no sì volevo dire che per esempio io ho cominciato a fare immersioni ormai 35 anni fa appunto in Liguria Portofino e quando io 30 anni fa andavo negli stessi posti dove vado adesso c'era il deserto cioè proprio andare a cercare con l'anternino un pescetto un qualcosa non c'era nulla perché veniva tutto o depredato ai pescatori oppure non c'erano le condizioni perché perché si sviluppasse mentre adesso e c'è anche molta differenza in Liguria per esempio tra la zona di Portofino e per esempio Bergeggi che adesso è diventata un'area marina protetta però non da molto per cui ci vuole un po' prima che si ripopoli e si sviluppi bene e con questo ho concluso grazie Anto è stata una una bella lezione perché è stata anomala rispetto alle classiche lezioni esatto dal classico dalle specie bentoniche il pelagio esatto l'hai approcciata in maniera molto diversa quasi al contrario esatto molto bello così ci ha dato la possibilità in realtà di vedere due aspetti uno quello del pelagico del pelagico grosso quindi cetacei e squali che di solito nelle lezioni di biologia è alla fine quindi quando la gente dorme e anche la tropicalizzazione che vabbè è uno dei degli argomenti più attuali non ho visto tra le specie diciamo che si sono un po' adattate al mediterraneo tropicalizzato il lionfish che invece il pesce scorpione invece mi hanno detto che si sta diffondendo tantissimo nel sud del mediterraneo sì infatti c'era anche questa prima io ho fatto alcuni esempi perché ce ne sono ci sono tanti altri pesci che non mi sembravano molto belli da farli vedere e soprattutto non parliamo poi di tutto il bentonico cioè i crostacei i celterati tutto quello che comunque passa anche spugne coralli che stanno aumentando però sì certo il lionfish è uno dei pesci che sta passando dal canale di Suez fondamentalmente perché dall'Atlantico essendo un mare comunque più freddo più freddo più freddo dell'Atlantico passano ma non passano ovviamente i pesci tropicali ma passano altri animali come per esempio appunto i grandi squali il lionfish a differenza del pesce palla è anche molto buono questo ha quindi si sta diffondendo ma i pescatori lo cercano comunque se gli capita di prenderlo ha delle carni comunque buone lo pescano lo mangiano lo mangiano e lo pescano anche sì assoluto bisogna stare attenti perché ovviamente ha le spine come lo scorfano è velenoso ma come lo scorfano è molto buono e quindi anche il lionfish è predato dai pescatori sì adesso non lo sapevo ok lasciam spazio a domande e curiosità perché l'argomento come diciamo è abbastanza atipico e quindi se qualcuno ha qualche curiosità approfittatene sì sto ho visto sto guardando nella chat che Marco dice che meno dell'1% del Mediterraneo è zona protetta certo io ho fatto vedere l'Italia che sembra che ce ne abbia tantissime di aree marine protette e in realtà ne ha tante però ovviamente l'Italia rispetto al Mediterraneo non è certo la nazione cioè poi se pensiamo a tutta la parte della Grecia del Medio Oriente Marocco Spagna in Spagna che io sappia non ce ne sono tantissime trovate le isole Medas che sono una riserva marina storica che c'è ormai da più di 30-30 35-30 anni Francia ce ne ha qualcuno però potete immaginare che sulla costa africana di aree marine protette forse sono sono già protette loro di loro perché l'antropizzazione in alcune zone della costa africana non è come l'antropizzazione delle coste italiane in cui non ci sono 100 metri senza una casa senza uno stabilimento balneare senza qualcosa che ovviamente rispetto alla costa dell'Algeria mi viene in mente non c'è paragone ecco e adesso Marchino che se non mi inganna la memoria potrebbe essere Marco Torcello però non lo so se mi darà conferma o no comunque scrive che negli USA il pesce scorpione e mi conferma che è lui è diventato infestante e addirittura la pesca è incentivata io non lo volevo dire perché è una serata di biologia che è importante di essere un pescatore cattivo ma in realtà anche nel Mediterraneo tra la comunità di pescatori in apnea è molto promossa la pesca al pesce scorpione in realtà ovviamente sempre con un'etica cioè non al pesce scorpione piccolino ma alle specie più grosse perché come scrive Marco è una specie infestante quindi è un predatore molto vorace e in breve tempo può far sparire altre specie più deboli certo esatto e questo nelle aree marine protette non viene fatto visto che si parla di aree marine protette tu hai fatto l'esempio di Portofino abbiamo fatto tante immersioni a Portofino negli ultimi 15 anni e da quando è stata istituita la riserva marina ad oggi è completamente cambiato l'equilibrio delle specie subacquee sì certo perché ci sono le grandi cernie ci sono le cernie che ormai sono padrone indiscusse di tutto Portofino si sono spartite ai dadi i sassi e si gestiscono tutti i fondali non si vede più un polpo non si vede più una ragosta perché ovviamente è il cibo preferito da questi almeno io voglio pensarla così non voglio pensare che sia qualcuno che va a pescare nel parco però è sicuramente così è sicuramente così l'area marina di Portofino infatti è sotto studio perché è chiaro che le grosse cernie hanno come predatore primo l'uomo perlomeno perché venivano pescate e poi anche non so se appunto grossi pesci come gli squali così che però anche soltanto per il fatto che siamo in una zona antropica non si avvicinano e quindi loro stanno tranquillamente indisturbate nella loro zona non vengono cacciate né dall'uomo né dai grossi pesci e quindi non hanno nessun ma è un po' come succede anche all'isola di Cavallo in Corsica e sono enormi o le isole Medas sono cernie da 2-3 metri non so se arriveremo a Portofino a vedere cernie da 2 metri come sono in Corsica però chi preda una cernie di 2 metri che il competitore ha nessuno se non però vabbè so che io ho parlato in Liguria per capire appunto come mai non facevano un prelievo selettivo cioè concedevano a pescatori subacquei di fare un riequilibrare e loro mi hanno detto che in realtà l'area marina protetta di Portofino è studiata dall'università di biologia marina e i ricercatori in realtà hanno detto che la natura tende a un suo equilibrio quindi prima o poi le cerni lì non avranno più cibo sufficiente e pian piano quindi posteranno e si ripopolerà di altre specie quindi cerca un equilibrio naturale è chiaro d'altronde è come tolto il fatto dei grossi pesci il re marina protetta di Portofino è come era 200 anni fa cioè non c'è l'uomo non ci sono le barche non c'è la pesca se mai ci sono i grossi pesci però era così anche prima prima che arrivassero i pescatori e tutti i vari grandi le barche che disturbano perché alla fine anche anche in superficie il mare se c'è una zona dove ci sono un sacco di case viene disturbato gli animali vanno verso vanno a largo o in profondità e nonostante siano disturbati in realtà hai fatto vedere il dentice che nell'area marina protetta di Portofino con un sacco di barche in testa si lascia avvicinare non so perché due chilometri più a sinistra non si lascia avvicinare non è mai capitato di avvicinarlo poco più in là al di fuori dell'area marina protetta beh ma se siete voi pescatori che mi dite che se andate a fare un'immersione senza niente avvicinate il pesce basta che abbiate un fucile in mano sparisce tutto quindi no non so se se è il pesce che capisce o se in realtà ho notato ho fatto immersione in altre aree marine protette per esempio all'asinara che dovrebbe essere riserva ma in realtà all'asinara ci pescano ci pescano anche in apnea e ci pescano in realtà anche con le bombole e il comportamento dei dentici è molto diverso da quelli di Portofino abbiamo visto dentici che si fanno intravedere ma appena ti provi a avvicinare fa parto come delle saette nel blu perché sono ancora predati invece probabilmente a Portofino si sentono sicuri sì si sentono sicuri spero che non gli diano da mangiare perché sai che c'era anche alle isole medie se si andava giù con l'uovo da dare da mangiare allora lì però ovviamente poi questa pratica che 30 anni fa era una cosa molto figa molto interessante molto così adesso è assolutamente bannata da tutti perché si altera l'equilibrio naturale di questi pesci che sono abituati a prendersi l'uovo sodo e non cacciano più e poi muoiono di fame se per caso subacquee non vanno giù subacquee ma dagli da mangiare oltre che a rovinargli la loro fisiologia perché chiaramente abituati a mangiare dei pesci mangiano l'uovo sodo un po' diverso ok se qualcuno ha qualche curiosità si smuti pure ma più che curiosità mi veniva in mente una cosa riferita al fatto di avvicinare o meno il pesce e notavo nel mio piccolo perché ho molta meno esperienza con le bombole rispetto all'apnea però notavo nel mio piccolo che comunque con le bombole boh sarà il fatto che riesci a stare più tempo in acqua e quindi essere visto più tempo movimenti più lenti mentre con l'apnea sali e scendi e il pesce si avvicina molto di più a chi fa immersioni con le bombole o si lascia avvicinare a chi fa immersioni con le bombole piuttosto che a un apnista l'apnista magari nel suo fare molto veloce tra virgolette perché scende va a 20 metri sta giù un minuto e poi risale non sta tanto e non abitua il pesce e ho notato nel mio piccolo questa roba qua in apnea vedo molte meno cose rispetto a andare giù con le bombole e non parlo di a livello di tempo perché chiaramente ovvio in due minuti vedo molte meno cose rispetto a stare giù 40 ma nella totalità dei tuffi dell'apnea o nella singola immersione ara comunque sia ho notato questa differenza non so è un mio parere ma volevo capire se qualcuno di voi che ha esperienza in entrambi i campi condividi o meno questa cosa io non ho esperienze in apnea quindi non te lo so dire quasi e mi conto che i filmati che vi ho fatto vedere erano 15 18 metri eravamo perché lì a Portofino spesso le grosse cegne sono lì intorno ai 20 metri non lo so questo ok ci sono altri collegati che fanno i timidi che sono sia subacque che apneisti però allora io ho notato che quando vado con le bombole vado prevalentemente in zone dove c'è il pesce quindi vai a per esempio a Portofino quindi è facile vederlo in apnea è rarissimo che vada in un'area marina protetta è più facile che vada in zone invece dove magari di pesce ce n'è meno può fare esercizi che quindi non vai a vedere pesce ci sta ok ci sta anche quello fare didattica guardi l'allievo non guardi il fondo guardi meno è capitato di fare apnea nel parco di Portofino e in realtà mi è capitato l'unica volta che ho visto un tonno grosso nel parco di Portofino l'ho visto in apnea quindi non lo so è anche un po' forse quanto tempo ok ci sta ci sta Jody io non ho esperienza esperienza di apnea ovviamente però secondo me quello che dici ha un fondo di verità nel momento in cui il bombolaro che resta fermo o comunque con i movimenti lenti incuriosisce di più il pesce che o è infastidito dalle bolle quindi scappa appena delle bolle scappa oppure tendenzialmente ha il tempo di avvicinarsi anche lentamente quindi quello che tu dici legato a una questione di tempo secondo me è veritiero a Matteo successo in Mar Rosso lui aveva la GoPro una tartaruga gigantesca ha iniziato a guardarlo probabilmente da lontano ha visto che era più o meno immobile con la sua GoPro in mano si è avvicinata e ha iniziato a sbattere cioè si sente proprio nel video e si vede col becco della tartaruga a sbattere contro la contro la camera ovviamente a livello di tempo per un apneista la tartaruga probabilmente avrebbe fatto così visto che succede secondo me è sicuramente anche una questione di tempo calcolando che però io non vado in apnea quindi non so quanto possa essere ringraziamo Matteo per avere mimato è lì perfettamente immobile che cerca di attirare la tartaruga ma perché non è d'accordo perché lui dice che il pesce è più disturbato dai bombolari quindi si fermano di meno io invece ho questo ricordo della tartaruga che sbatte contro il vetro e secondo me poi probabilmente anche i pesci dipendono dal carattere io parlo da pescatore in apnea dove ci sono ovviamente teorie opposte c'è chi dice per avvicinare il denti ci devi stare esattamente immobile con il sole alle spalle non devi fare rumore e c'è chi dice devi andare giù devi picchiare il fucile sul fondo devi farti sentire devi muoverti è difficilissimo entrare nella testa del pesce ci sono altre curiosità Nicola la tecnica migliore è quando porti a casa il pesce o sbatti o non sbatti o vai è quello condivido cioè alla fine l'obiettivo è fotografarlo o uno per cosa va e se uno riesce ben venga il fine giustifica e me come come cosa hai detto come no come avvicini il pesce non è importante l'importante è avvicinarlo sì ragazzi comunque è vero il pesce è chiaramente abbastanza particolare in tutte e altre condizioni io ero famoso diciamo così nel mio gruppo al momento che si andava a fare delle discese in ara diciamo andiamo con Claudio che sicuramente vede del pesce non è perché io lo attiravo ma magari appunto pescando lo entravo un pochino più nella psicologia del pescatore quindi cercavi un attimino di guardare nell'ottica dell'immersione quello che poteva essere il posto il punto e ogni volta insomma che si cercava di fare un'immersione cercavo di incuriosire le persone appunto chi poi vai a condurre cercando di guardare dal pesciolino dalla castagnola al pesce intana quello che può trovare fuori quindi cerchi un pochino di guardare con occhi leggermente diversi poi è normale che in apnea hai mille tipi di attività diverse il tempo è comunque quello che è e quindi vai a dedicare quel tuffo di apnea o cercando il pesce o a fare didattica quindi anche lì devi essere anche fortunato a trovare il posto la zona è il momento giusto perché magari come tutte le condizioni vai magari in un posto trovi i pesci ci torni un giorno dopo sperando o magari sei quasi certo di bissare l'avvistamento appuntualmente torni a casa deluso quindi il pesce molte volte sì è vero uno deve entrare un pizzico di psicologia del pesce ci vuole sempre ma insomma siamo nel loro regno quindi fa sempre un po' da padrone grazie ragazzi infatti se per le cerni e al Liguria è un classico che loro stanno lì tranquilli non si muove il dentice è stato un po' una cosa particolare io sono convinta perché era anche un bel dentice grosso avesse avuto lì la tana e cercava di e la difendeva e quindi non si allontanava perché aveva paura di perdere la tana siccome lui era anche abbastanza grosso io sì probabilmente gli facevo paura ma neanche più di tanto perché lui era veramente molto grosso e questa è stata una situazione un po' particolare normalmente i dentici non si avvicinano così tanto le cene sì le cene sono lì tranquille io credo che anche in apnea nella zona di Portofino dove andiamo noi l'altare dove sono lì tranquille sicuramente anche in apnea si riescano a vedere bene sicuramente